nei cantieri degli stadi. Per quanto riguarda la manovra economica c'è molta discussione intorno ai bonus, in particolare intorno al super bonus 110% e riguarda anche il problema di tantissime, almeno 50.000 imprese che hanno questi crediti di fatto bloccati. Il nodo del super bonus sbarca in manovra. Il governo vuole concedere una proroga e sbloccare i crediti, come indicato in vari emendamenti a firma dei partiti di maggioranza. Ma non c'è ancora una soluzione unica e concordata. Dall'opposizione arrivano le proposte del PD per evitare un'interruzione traumatica del meccanismo d'incentivo con il coinvolgimento della forza finanziaria di cassa, depositi e prestiti. Di certo la situazione per le imprese che avevano aderito al super bonus, eseguendo i lavori, si sta facendo difficile. Sono quasi 50.000 le imprese, secondo la CNA, che non riescono a cedere i contributi per la riqualificazione degli immobili, con oltre 5 miliardi di euro di crediti nei cassetti fiscali, ora non monetizzabili, di fatto scritture senza alcun valore. Un volume raddoppiato rispetto alla scorsa primavera. La paralisi provoca pesanti impatti, come il mancato pagamento dei fornitori e delle tasse, molti cantieri sospesi, di cui l'86% a rischio chiusura. Ma si discute anche sul bonus cultura da 500 euro ai neo maggiorenni, l'app 18, tra le proteste del suo ideatore Matteo Renzi. Nelle intenzioni della maggioranza verrà sostituito da una carta cultura e da finanziamenti a spettacolo, cinema e editoria. Tanti interventi, ma poca sostanza, dice Confindustria. Per il presidente Bonomi alla legge di bilancio manca l'attenzione al lavoro e alla crescita del paese. Un'occasione persa, mentre serviva un taglio shock al cuneo fiscale. E per il governo ora torna alla necessità di prendere posizione sulla riforma del meccanismo europeo di stabilità, dopo l'ok della Corte Costituzionale tedesca. Il Movimento 5 Stelle chiede chiarezza sul tema. Per il vicepremier Tajani restano perplessità nella maggioranza e il nuovo statuto del MES ha il difetto di non convolgere il Parlamento europeo. In serata, Palazzo Chigi ha annunciato modifiche alla manovra per incrementare i fondi per gli investimenti al mezzogiorno.